come aumentare così la memoria RAM sul telefono ovviamente come estendere la memoria RAM sul telefono quindi se tu hai comprato un telefono con 8 GB di RAM o di più e te lo ritrovi con 3-4 GB di RAM proprio applicati sul telefono è possibile portarli a quel punto quindi in questo caso vai direttamente su impostazioni quindi vai nelle impostazioni del tuo sistema del telefono quindi su impostazioni scrivi qua sopra memoria estensione di memoria ed eccolo qua estensione di memoria come puoi vedere il mio telefono sta su 6 GB di RAM e invece di 8 quindi crea RAM aggiuntivo occupando spazio di archivazione utilizza questa funzionale solo quando lo spazio di archivazione è disponibile quindi in questo caso io come estensione di memoria vado a mettere una volta premuto 8 e avvia dispositivo per applicare le modifiche che faccio portarti quindi tu una volta applicato così crea RAM aggiuntiva dare la memoria RAM sul telefono metti così 8, 12, quanto ne voglio mettere e poi riavvia il telefono grazie a tutti per questa visione ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao